Qual è stato il primo videogioco di Rockstar Games? Sono sicura che molti diranno il primo Grand Theft Auto del 97, ma no, questo perché lo studio è nato a finire del 1998, dopo che Take-Two Interactive acquistò i diritti della serie GTA da BMG Interactive. Il primo gioco di Grand Theft Auto è stato sviluppato da DMA Design, studio inglese ora noto come Rockstar North, e di fatto il primo vero videogioco pubblicato sotto l'etichetta di Rockstar Games è GTA Mission Pack Number 1, London 1969, ossia l'espansione londinese di Grand Theft Auto pubblicata nella primavera del 1999.